Questa parte 3 si occupa appunto della gestione dei diritti tra licenze, termini d'uso e contratti. Cioè cerchiamo di fare anche qua un passo avanti, una volta capiti quali sono i diritti che entrano in gioco, e sono tantissimi, l'abbiamo visto nelle serie precedenti, dobbiamo capire come i titolari possono gestire questi diritti. Oggi abbiamo deciso di parlare di gestione e tutela dei diritti, ecco che arriviamo alla parte sulla gestione. E licenze, termini d'uso e contratti sono le tre forme principali. Forse l'ordine potrebbe essere contratti, licenze e termini d'uso, perché comunque siamo nell'ambito del diritto contrattuale, cioè anche una licenza, i termini d'uso sono tutte forme di gestione contrattuale di questi diritti. Il diritto d'autore è comunque una branca del diritto commerciale, quindi del diritto civile. E quindi questi diritti nascono per essere poi, come abbiamo detto, ceduti, gestiti, dati in autorizzazione, dati in licenza, tolta la parte sui diritti morali che, come abbiamo detto, non possono essere oggetto di cessione, di gestione del diritto con strumenti contrattuali. Quindi in questa parte vediamo quali sono, a grandi linee ovviamente, perché non abbiamo tantissimo tempo, i principali strumenti per la gestione di questi diritti. Allora iniziamo, licenza, questo ci serve anche come introduzione a ciò che diremo nella prossima lezione, quella sulle licenze creative commons, appunto capiamo in generale che cosa vuol dire licenza e per capirlo basta fare una riflessione etimologica sulla parola, sul termine licenza, che deriva dal latino licere e quindi un atto di autorizzazione, di permesso, cioè dove c'è una licenza c'è qualcuno che sta dando un permesso a qualcun altro. E in questo caso chi è, visto che siamo nell'ambito della proprietà intellettuale e del diritto d'autore, chi sarà il licenziante, cioè colui che dà il permesso? È il titolare dei diritti, che può essere l'autore ma può essere anche qualcun altro, cioè l'editore, il produttore discografico, il produttore cinematografico. La seconda è il tipo di opera, colui che detiene i diritti dà l'opera in licenza, cioè consente alcuni utilizzi dell'opera e quindi è licenziante. Coloro che ricevono l'opera in licenza sono licenziatari, ok? Quindi una licenza d'uso è sostanzialmente un documento con cui il titolare dei diritti su un'opera creativa ne regolamenta l'utilizzo e ne autorizza alcuni usi, cioè tra parentesi ho messo alcuni perché non è che ne autorizza tutti gli usi, perché se fosse un'autorizzazione a tutti gli usi in realtà sarebbe una sorta di, come dire, rinuncia ai diritti, come il cosiddetto CC0 nel linguaggio Creative Commons e quindi non sarebbe nemmeno più una licenza. C'è sempre una parte di diritti che l'autore o il titolare dei diritti si mantiene, su quelli mantiene ancora un controllo e cede e dà in libero utilizzo solo alcuni aspetti dell'opera. E possiamo organizzare le licenze d'uso in queste macro-categorie. Perché io dico licenza d'uso ad hoc, nel senso di licenza d'uso che è rivolta ad un licenziatario definito oppure una licenza d'uso pubblica. Quindi quando abbiamo una licenza d'uso per un singolo licenziatario abbiamo un rapporto tra tizio e caio. Qui abbiamo un licenziante che è definito, non so, l'editore X o l'autore Y e il licenziatario è, che ne so, la biblioteca Y, cioè un soggetto che sottoscrive un vero e proprio contratto di licenza tra due soggetti ben definiti. Non so, pensate alla licenza che voi sottoscrivete come biblioteca con una grande casa editrice per la sua banca dati di contenuti online. Quindi lì abbiamo un licenziante definito che è la casa editrice e il licenziatario che riceve l'opera in licenza che è la biblioteca. Però ci sono anche le cosiddette licenze d'uso pubbliche, cioè licenze d'uso che vengono collegate all'opera poste sull'opera e sono rivolte a tutti, non sono rivolte solamente ad un soggetto definito. Cioè licenziante è sempre titolare dei diritti, cioè colui che può rilasciare con una licenza l'opera è sempre licenziante titolare dei diritti, ma poi abbiamo dall'altra parte tutti i potenziali licenziatari. Io scarico un'applicazione per il mio smartphone per modificare le foto, quando la scarico mi viene proposta la licenza e io l'accetto, quindi in quel momento divento licenziatario. E quindi tutti coloro che scaricano quell'opera in licenza diventano licenziatari, nel momento in cui la utilizzano e la scarico. Idem vale per, vedete, le licenze open, cioè le licenze open sono una sottocategoria delle licenze d'uso, cioè io appongo sulla mia opera una licenza cosiddetta open, che siano creati in commons oppure per il software che vengono chiamate licenze open source o di software libero, appongo questa licenza e quindi chiunque arriva su quel contenuto, su quel software, sa che lo può utilizzare liberamente, in ottica open, perché lo dice la licenza. Ok? Quindi queste sono, diciamo, le due grandi famiglie delle licenze. La prossima settimana ci concentreremo in particolare su queste, su cosa vuol dire rilasciare un'opera con licenze open o utilizzare un'opera con licenza open. Abbiamo poi il contratto di cessione dei diritti, li abbiamo già nominato prima, è quel famoso documento che purtroppo molti autori firmano senza leggere, senza comprendere, e qua si crea un rapporto di cedente-cessionario, non più di licenziante-licenziatario, perché non è un'attività di licenza, ma è di cessione, che è diverso, è molto diverso. La differenza in cosa sta? Nel fatto che la licenza mantiene la titolarità del diritto al suo originale titolare. Nel caso dell'accessione si viene, cioè il titolare del diritto si spoglia dei diritti perché li cede ad un altro per contratto. Quindi il cedente perde il controllo della sua opera per tutta la durata del contratto. Il classico esempio nella nostra legge è il contratto di edizione, che è una delle due forme di contratto regolamentate espressamente dalla legge sul diritto d'autore, nel quale appunto l'autore di un'opera letteraria, diciamo un'opera destinata alle stampe, non necessariamente letteraria, cede questo diritto a un editore il quale lo acquisisce tendenzialmente in via esclusiva. Infatti vedete che qua ho messo, quando l'accessione è in via esclusiva, i diritti d'autore e i diritti connessi possono essere esercitati sempre e solo da un unico soggetto. Cioè in esclusiva vuol dire che quell'accessione è esclusiva, cioè va a favore di un unico soggetto, il quale può escludere gli altri dallo sfruttamento di quei diritti, compreso il suo cedente. Cioè l'autore che firma un contratto di cessione dei diritti in via esclusiva perde lui stesso la possibilità di fare alcune attività libere sulla sua opera. Perché da quel momento in poi, per tutta la durata del contratto, il diritto italiano nel contratto di edizione può durare al massimo vent'anni, però per tutto questo lasso di tempo lo stesso autore non ha più il controllo, non può più fare alcune cose sulla sua opera, perché deve chiedere il permesso all'editore. E in più, articolo 110 della legge sul diritto d'autore, che stabilisce la forma scritta ad approbation, cioè per provare l'accessione del diritto è richiesta la forma scritta. E quindi, ecco perché è sempre buona norma in queste situazioni, farsi, come dire, se io fossi la casa editrice o qualsiasi, non so, anche la biblioteca che organizza l'evento e si fa mandare il contributo per fare gli atti del convegno da mettere sul sito, oppure che realizza il video dell'evento formativo per poi metterlo a disposizione sul suo canale YouTube o sul suo sito, e lo vuole fare in via esclusiva, è sempre buona norma farsi firmare un pezzo di carta, avere almeno una prova scritta dell'accessione del diritto, ok? Quindi vi invito a preparare un documento o liberatoria, nel senso più generico, che vi quantomeno autorizza a fare, la liberatoria è qualcosa di meno forte, diciamo, è meno radicale del contratto di cessione perché vi autorizza a fare una cosa e basta, è limitata ad un singolo utilizzo, e invece il contratto di cessione è qualcosa di molto più ampio perché, come vi dicevo prima, sposta la titolarità del diritto da un soggetto all'altro, dal cedente al cessionario. Se volete farlo, mi raccomando, che sia in forma scritta. E poi, adesso siamo entrati in questo mondo, l'ho detto nella parte introduttiva del corso, siamo nell'era dell'accesso, siamo nell'era in cui buona parte dell'utilizzo delle opere si svolge online, si svolge tramite il web, e quindi anche l'accessione dei diritti, anche la gestione dei diritti viene fatta attraverso l'accettazione di cosiddetti termini d'uso. L'ho detto prima, scarico l'applicazione dal cellulare, mi compare tutta una serie di avvertenze, guardati, mi devi dare questa autorizzazione, io faccio ok, 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 perché non ho tempo da perdere, accetto tutto e vado avanti. È un meccanismo molto comune, in cui cadiamo tutti, perché ovviamente il tempo è sempre poco, e non abbiamo tempo per stare lì a leggere tutti i vari termini d'uso di tutte le applicazioni, e quindi a volte scarichiamo cose che... accettiamo testi che ci espongono a dei rischi, soprattutto sul piano Prime, se no oggi parliamo di diritto d'autore, ma buona parte dell'attività, i termini d'uso di varie piattaforme social, ci chiedono l'autorizzazione a far vedere aspetti della nostra vita, a geolocalizzarci, a profilarci, in un modo a volte eccessivo ed eccedente rispetto a quello che davvero dovrebbe fare quell'applicazione, ma lo si fa perché appunto molti non lo sanno, molti non si stanno attenti, e quindi accettano cose che magari non accetterebbero se ne avessero la vera consapevolezza e la vera contezza. Anche sul piano del diritto d'autore, come vedete nella slide, sempre più spesso l'accessione dei diritti d'autore o la semplice autorizzazione all'utilizzo viene effettuata attraverso l'accettazione dei termini di piattaforma web, quindi nel caso che facciamo noi, gli esempi che facciamo noi, uno va su ResearchGate, oppure su Accademia.edu, oppure su qualche piattaforma, appunto, qualche repository universitario, oppure Wikimedia Commons per caricare le sue foto, il suo lavoro di ricerca, e quindi cosa succede? Quando mi registro queste piattaforme e creo l'account, mi dicono, attenzione, qua ci sono le regole della piattaforma, no? Quindi quando tu carichi un contenuto, lo fai ai sensi di queste regole che abbiamo scritto noi, che sono regole di carattere contrattuale, che sono nel diritto privato civile sarebbero contratto per adesione, nel senso che non è che puoi scegliere di togliere alcune cose dal contratto, è un contratto preconfezionato, io posso semplicemente aderire o non aderire, scegliere di giocare a quel gioco o rimanerne fuori. Visto che purtroppo in alcuni casi non si può scegliere di rimanerne fuori, perché per fare un certo tipo di lavoro bisogna partecipare a quelle piattaforme, ahimè a volte ci troviamo ad accettare cose che non sarebbero così necessarie. Quindi c'è una questione psicologica, come vedete, che si tende quasi sempre a non leggere, o sempre di più a non leggere, a sottovalutare l'importanza di questi contratti, perché tutti gli effetti sono dei contratti, e si pone una questione che qualcuno di voi prima aveva già posto della legge applicabile. Cioè si va a toccare il piano del diritto internazionale privato, non da poco, perché internet di per sé è un mezzo di comunicazione che va oltre i confini degli ordinamenti giuridici. E quindi quando io sono su internet non so bene dove sono geograficamente, non c'è una collocazione geografica, anche se la piattaforma ha una lingua, parla in italiano, parla in tedesco, parla in inglese, non è detto che i suoi server e la società che la gestisce siano in Italia, in Germania, o negli Stati Uniti o in Inghilterra. Ok, quindi a seconda del gioco a cui gioco ci sono una serie di questioni emergenti anche dal punto di vista della legge applicabile, e la legge applicabile non è cosa da poco, perché come dicevamo prima, va a volte a togliere dei diritti agli utenti. Cioè i gestori di queste piattaforme tendenzialmente cercano di applicare la legge che ovviamente va a loro favore, una legge che anche dal punto di vista, ad esempio, fiscale, li aiuta a fare, a tenere in piedi il loro lavoro in modo meno pesante, no? Ok, e questo problema si pone anche dal punto di vista della privacy, grande tema, che appunto adesso stiamo cercando di tamponare con il GDPR, che è comunque una norma di carattere europeo, ma il mondo non si esaurisce nell'Unione Europea, e quindi bisogna cercare di convincere anche coloro che vengono da altri ordinamenti esterni dell'Unione Europea a fornire i loro servizi ai paesi dell'Unione Europea secondo le leggi, secondo le regole del GDPR. Cosa non da poco, perché uno dice, ma io perché sono russo, americano, cinese, e devo venire a proporti un servizio che è gratis, che è gratuito, e devo rispettare le tue regole che mi fanno del male, che mi remano contro, perché nel mio paese invece quelle regole non ce le ho. Capite che è davvero una questione non particolare, non di facile risoluzione, e che, come dire, tocca, va diciamo a svegliare corde molto molto delicate dell'ordinamento del diritto, della scienza giuridica, perché il diritto ha sempre ragionato per secoli in un'ottica, diciamo, nazionale, territoriale, e si trova adesso a dover gestire invece un mondo che è globalizzato e che fa buona parte della sua attività attraverso la rete, che è di per sé, per definizione, un mezzo di comunicazione invece non localizzato. Rimanendo sul piano del diritto d'autore, quindi, e senza, adesso ho fatto l'esempio del GDPR, ma non voglio portarvi troppo fuori strada, ormai siamo abituati a diffondere opere creative attraverso queste, ho messo quattro loghe qua in basso, che sono i più evocativi, attraverso queste piattaforme, che quasi tutte sono californiane di matrice, alcune, quelle di Google, sono californiane perché Google è californiana come azienda, ma applicano la legge del Delaware, quindi già lì vi fa capire, cioè all'interno degli Stati Uniti, comunque, Google preferisce la legge di un paese che sta dalla parte opposta degli Stati Uniti, quindi sull'oceano Atlantico, non sull'oceano Pacifico, perché probabilmente è quello che, da un punto di vista almeno fiscale, gli permette delle regole, gli consente di avere delle regole un po' più lasse, un po' più morbide. Quindi quando le opere vengono diffuse attraverso le piattaforme web, anche, scusate, oltre le norme di legge, dobbiamo ottenere in considerazione, quindi, questo ulteriore strato di regole, cioè le regole interne della piattaforma, ma i cosiddetti termini d'uso, che non sono legge, sono contratto, ma visto che il contratto si dice che fa forza di legge tra le parti, nel momento in cui io lo accetto, devo attenermi a quello che c'è scritto anche nel contratto, quindi abbiamo le leggi dei due Stati, lo Stato dell'utente, lo Stato della piattaforma, e poi si sovrappone a queste leggi, a queste regole, anche il livello delle norme interne, delle norme contrattuali stabilite con i termini d'uso. E dietro a questo meccanismo ci sono due principi, vedete, della cosiddetta non responsabilità del mero service provider, cioè colui che svolge attività di mero service provider, di mero fornitore del servizio, cioè che rimane assettico rispetto a quello che succede sulla sua piattaforma, non ha una vera responsabilità nelle violazioni sul diritto d'autore che avvengono sulla sua piattaforma, lui deve semplicemente intervenire nel caso in cui venga messo al corrente che il contenuto è in violazione del diritto d'autore. Questo meccanismo viene chiamato nel contesto americano, cosiddetto notice and take down, cioè io te lo notifico e quindi tu me lo tiri giù, mi tiri via, mi take down, mi tiri giù il contenuto, ed è il meccanismo che vedete appunto su queste piattaforme, quando io vedo una foto su Instagram che è mia e non dovrebbe essere lì perché l'hanno pubblicata senza chiedermi il permesso, ho i tre tastini, i tre puntini in alto a destra per segnalare un contenuto, quindi mi apro una schermata che mi porta ad una procedura che mi permette di segnalare la violazione di coppia, la violazione di proprietà intellettuale, e lì dall'altra parte in teoria ci dovrebbe essere qualcuno che verifica e lascio aperto il dubbio, nel senso non so chi di voi abbia mai provato davvero a farlo e quante volte riesce davvero ad andare a buon fine la segnalazione. E poi il contrario a volte, a volte ci siamo trovati a essere segnalati, cioè a ricevere una tirata di orecchi potremmo dire, da parte di YouTube o di Instagram, per delle cose che fanno ridere, nel senso che c'era magari, a me è successo un video che avevo girato in un agriturismo, in cui c'era in sottofondo, cioè non è che ce l'ho messo io, in quell'agriturismo in quel momento c'era la radio accesa, e quindi c'era un brano musicale in sottofondo che si sentiva pure male perché c'era il vento e per qualche motivo bizzarro per Instagram quella roba lì è in violazione del copyright perché si sente il brano musicale e voi direte ma come può succedere una cosa così shock? Succede per il fatto che non sono davvero degli esseri umani a fare questa verifica, ma purtroppo spesso è un algoritmo, cioè è un software che percepisce che lì c'è una traccia musicale e non riesce a distinguere il contesto, perché per fare questo tipo di distinzione ci dovrebbe essere l'occhio umano, l'occhio esperto anche umano, cioè di qualcuno che ha un minimo di sensibilità di cosa siano, non so, il concetto di fair use, di libera utilizzazione, di eccezione del diritto d'autore e capisca che in quel caso non c'era una vera utilizzazione del diritto d'autore e il contenuto può tranquillamente rimanere online perché non danneggia nessuno. Discorsi che, ripeto, dovremmo forse, potremmo stare qua ore e ore a portare avanti, però è giusto per farvi capire come funziona il meccanismo e per introdurvi il passo successivo, cioè quello che interessa a noi.